meloncini che ci fate qui a sanremo abbiamo portato i prossimi prossimo futuri vincitori di sanremo sul cogomero eccolo qua marco mengoni scolpito io confermo quello che ha già detto lui è amadeus il sanremino fatto sempre da lui ma quindi è tua l'idea di questi meloni io sono son giuseppe sono un campione mondiale di intaglio quest'anno ho voluto portare dei cocomeri qui a sanremo per pubblicizzare e provare tentare a avvicinandomi al fanta sanremo con mengoni poi portati il sanremino ieri eravamo anche con giorgia ultimo insomma stiamo girando due amici con due cocomeri in mano ma poi si mangiano questi cocomeri alla fine volendo sì si potrebbero mangiare ma quindi tu hai qui il melone di marco mengoni che secondo te il vincitore di questo festival di sanremo sì assolutamente sì e lo dico da prima che iniziassi sanremo proprio sulla fiducia sulla fiducia sulla fiducia vince lui mengoni allora domani lo scopriamo ma se mengoni vince domani sto melone si taglia o no ce lo mangiamo anche se non vince ce lo mangiamo uguale perché poi è un peccato giuseppe ma questi i tuoi tagli li possiamo guardare su qualche canale social come no su instagram la pagina si chiama guida froids si c'è tutto lì pubblico tutto anche le dirette fatte qui a sanremo insomma guardate vedete tutto quello che c'è tutto lì allora grazie mille per essere stato con noi grazie mille grazie a voi grazie a voi grazie mille grazie a voi Grazie.